Ciao, papà. Come va? Devo trovarmi un altro lavoro. Non ti piace la dog sitter? I cani non sono sempre simpatici. Spero che tornerai. Voglio andare a Las Vegas. Ho deciso di cambiare vita, di mettermi in gioco. Ollie, puoi mandarla da Dink. Chi è Dink? Lei è Dink? Sono Dink, sì. Una storia vera, tratta dal romanzo biografico di Beth Reimer, Lady Favourite, un regista brillante come Stephen Frears, un cast stellare con la scelta coraggiosa e promettente di dare alla bella e talentuosa lundinese Rebecca Hall il ruolo di una all-American girl come Beth, passata dalla squallida vita della stripper di provincia a un impiego eccitante a Las Vegas, fino a vedere il suo libro diventare un film a Hollywood. Queste le caratteristiche potenzialmente vincenti di un progetto che naufraga per mancanza di identità e per la scelta di affidarsi a uno script, in forme mediocre, il quale, per cercare la battuta ingegnosa, senza riuscirci per altro, trascura tutto il resto. Quello che abbiamo qui è una bella spiantata con una personalità vagamente borderline e una incontenibile tricotillomania che dopo aver vissuto pericolosamente di spogliarelli a domicilio decide di andare a Las Vegas con l'ambizione di trovare un impiego come cameriera di classe. Finirà per diventare protetta e portafortuna personale di un abile e affascinante scommettitore, Dink, che scopre in lei un talento notevole per i numeri. Nel generale disinteresse per le vicende narrate e per le alterne fortune dei protagonisti, un'ora e mezza di pellicola se ne va, alla fine senza colpo ferire. Perché Bruce Willis e Rebecca Hall, anche in un film senza anima, sono pur sempre un'ottima compagnia. Grazie a tutti.